Un bilancio su questa edizione 2013 del Carnevale di Fano. Io penso che il bilancio sia positivo, innanzitutto siamo stati graziati dal tempo, abbiamo avuto sempre il sole e quindi tantissime persone, indubbiamente il bel tempo è già una buona metà della riuscita di una manifestazione. A questo bisogna aggiungere la sapienza, la maestria con cui sia i maestri carristi, i maestri della gomma piuma che la carnevalesca hanno operato e la manifestazione è andata benissimo. C'è stata una buona promozione dell'evento, grazie al francobollo, grazie al gemellaggio di Roma. Un buon collegamento con il mondo della cultura attraverso le mostre varie che sono state fatte, tutti ingredienti che mescolati insieme hanno fatto del Carnevale ancora una volta una manifestazione bellissima. Quello che mi piace sottolineare è il ritorno di tanti fanesi a questa tradizione, ultimamente si erano visti poco, erano molto più i turisti. Invece quest'anno abbiamo avuto oltre 200 camperisti in tutte e tre le manifestazioni, alberghi, locali, ristoranti pieni, sia a Fano che anche nelle zone limitrofe. Quindi dal punto di vista turistico ha funzionato, ma anche dal punto di vista locale. Infatti è stato bellissimo vedere tanti panesi partecipare attivamente, anche con i palchi, i commercianti con le vetrine, con l'adobbo delle vetrine. Ecco, io direi che il Carnevale ancora una volta ha dimostrato di essere l'evento principale della nostra città. D'altro canto il brand Fano Città del Carnevale, che ci caratterizza come appunto città amante di questa manifestazione, sta funzionando. Siamo con Luciano Cecchini, presidente di Ente Carnevalesca. Un bilancio su questa edizione 2013 del Carnevale di Fano. Strepitosa, bella, bellissima e quindi siamo tutti qui felici e contenti a fare la gran conclusione. Martedì grazie come vuole la tradizione in piazza per dar fuoco al pupo e quindi tra poco, tra un'oretta circa, faremo questa cerimonia. Ma prima ci sarà una gradita sorpresa perché il nostro Carnevale bello da vedere, dolce da gustare, bello da vedere l'abbiamo visto e dolce da gustare lo gusteremo tra poco. Con un lancio straordinario sulla piazza 20 settembre. Ciao a tutti! Un commento sulle tre domeniche di Carnevale. Sono state tre domeniche bellissime, piene di gente, ci siamo divertiti da matti e è stato bello, via. Oggi chiudiamo con il martedì e bruciamo il pupo. E' fatto. Ti è piaciuto quest'anno il Carnevale di Fano? Io e il Carnevale di Fano quest'anno è stato forse meglio degli altri anni. Ho vissuto tutte e tre le uscite, un gran flusso di gente per cui è stato bellissimo, grazie anche al tempo che lo ha permesso. Diciamo che il Carnevale di Fano è un grandissimo evento e ogni volta che vedi questi carri, sempre più nuovi, sempre più belli, è una cosa molto bella. Sono contento così che spero che duri nel tempo, anche nonostante questa crisi che ci sta un attimino rovinando un po' tutte le feste di Fano e dintorno. Ok, non so altro cosa dire, grazie a tutti voi e buon fine Carnevale a tutti! Ti è piaciuto quest'anno il Carnevale? Sì! Quale carro ti è piaciuto di più? Quello della Devo e la Vera! Ti stai divertendo in questo momento? Sì! Aspettate che il lancio del Lucio mi aspettate? Sì! Ehi Zorro, ti è piaciuto quest'anno il Carnevale? Sì! Quante caramelle hai preso? Cinque? Ti stai divertendo qui al Carnevale di Fano? Sì! Ti è piaciuto quest'anno il Carnevale? Sì, sì! Quante caramelle hai preso? Molte!